Campopazzo sportiva congelata, paradossale visto che siamo alle soglie della stagione estiva, tutto in attesa di news da parte della nuova società. L'ingresso di Danilo Aliberti è praticamente in realtà, resta da verificare come l'ex patron della Salernitana strutturerà il nuovo sodalizio, con quali figure manageriali e quali tecniche per la nuova stagione sportiva. A questo punto facile pensare alla settimana prossima per la famosa conferenza stampa, ritardo sicuramente sulla tabella di marcia, ma non di certo nell'organizzazione. Il nuovo allenatore è stato praticamente scelto, anche se vige un certo riservo sul nome. Si lavora per definire la sede del ritiro della squadra possibili circa 20 giorni lontano dal capoluogo per la Rosa, con la sede di Casteldisangro in pole position. Dopo gli entusiasmi iniziali congelata, anche la questione relativa al ripescaggio. Come detto in questi giorni, il problema maggiore per il Salto e Lega Pro riguarda l'impianto sportivo. Le rigide regole dell'ormai terza serie si scontrano con il degrado di Selva Piana. L'annosa questione degli 800 mila euro riservati dalla regione al comune sembra comunque in via di definizione. Una cifra importante, utile per sistemare diverse problematiche della struttura e poter adeguare il Selva Piana ai requisiti minimi per ampliare la capienza. Gli stessi programmi di una società che ha voglia di far bene devono trovare riscontro nell'amministrazione cittadina. Il cammino deve essere a braccetto. I numeri di presenze visti ad esempio a San Benedetto del Tronto quest'anno sono impossibili a Campobasso, solo ed esclusivamente per motivi di capienza. Anche sul parcheggio il comune sembra aver trovato la giusta strada. Sembra ormai assodato l'utilizzo dei moduli divisori mobili per risolvere il problema della divisione tra tifoserie. In questo caso l'area resterebbe fruibile per ogni tipo di evento senza una divisione immobile, insomma al passo con i tempi. Oltre alla questione stadio c'è da segnalare che vigge un particolare silenzio un po' per tutte le squadre di Lega Pro e Serie D. Tutti hanno evitato di palesare la volontà di un ripescaggio possibile, la voglia di puntare ad un ulteriore abbassamento della tassa di 250.000 euro a fondo perduto per il salto di categoria. Staremo a vedere, di certo ci si prepara ad una nuova estate bollente dal punto di vista federale, con tante società in difficoltà ed altre pronte a subentrare.